Musica Si è spento a Roma all'età di 93 anni, lo scrittore Andrea Camilleri, nato a Porto Empedocle in provincia di Agrigento, è stato oltre che scrittore, regista, drammaturgo e insegnante. Iniziò a lavorare come regista per la televisione e per il teatro nel secondo dopoguerra. Nella sua vita ha sempre raccontato storia, amava parlare soprattutto della sua Sicilia, una Sicilia molte volte creativa e inventata, ma pesantemente realistica e concreta. La consacrazione l'ha avuta con le avventure del commissario Montalbano, fortunata serie che sbarcò in TV nel 1999. Recentemente aveva criticato Matteo Salvini per il suo comizio con il Rosario. Lì stata corretta e ribasso la stima dell'inflazione a giugno 2019, fino a un tasso dello 0,7%, partendo da una stima preliminare di più 0,8%. L'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività, all'ordo dei tabacchi, sale dello 0,1% rispetto al mese precedente. Rallenta la crescita dei prezzi dei prodotti di largo consumo. L'inflazione per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, diminuisce dal più 0,3% di maggio a più 0,2% a giugno. Lì stata così commentato, si consolida il quadro di bassa inflazione che caratterizza l'Italia. Palermo e New York, lontane, migliaia di chilometri, ma mai così vicine quando si parla di mafia. I contatti tra Stati Uniti e Sicilia sono saldi sin dai primi anni del Novecento e tutt'oggi tornano più che attuali. Sono stati impegnati oltre 200 uomini, fra Polizia Italiana e FBI, nell'ambito di un'operazione della DDA della Procura di Palermo che ha colpito il mandamento mafioso di Passo di Rigano. 19 le misure cautelari eseguite, con accuse che vanno dall'associazione a delinquere all'estorsione sino al trasferimento fraudolento di valori. L'operazione denominata New Connection ha appurato il forte legame fra Cosa Nostra e la criminalità organizzata oltreoceano, in particolare con la famiglia Gambino. A Passo di Rigano invece era stata ricostituita la roccaforte criminale di importanti esponenti della famiglia Inzerillo, storica cellula mafiosa di Palermo, rivale dei Rina. Tra i 19 arrestati ci sono Francesco e Tommaso Inzerillo, rispettivamente fratello e cugino di Totuccio, boss ammazzato dai corleonesi di Totorina nella guerra di mafia risalente agli anni Ottanta. Il crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018, che causò la morte di 43 persone, è ancora un ricordo indelebile. La struttura, stando al rapporto commissionato da Atlantia, aveva manifestato problemi di sicurezza già nei dieci anni precedenti al disastro, è quanto scrive il Financial Times, che sostiene di aver avuto accesso al documento. Il rapporto era stato presentato lo scorso novembre al Consiglio di Amministrazione di Atlantia, holding che controlla autostrade per l'Italia. Secondo alcune fonti vicine al CDA della società, la presentazione del rapporto era stata affrettata senza abbastanza tempo per elaborare i risultati del documento di 87 pagine. Le fonti hanno espresso dubbi sulla decisione di non rendere pubblico il rapporto e hanno affermato che la risposta della società al disastro è stata disorganizzata. Il Comitato per il controllo dei rischi di Atlanti aveva chiesto il rapporto a settembre per accertare se la compagnia fosse responsabile di mancanze nella manutenzione della struttura. Nel documento sono elencati interventi di manutenzione in una scala per ordine di urgenza da 10 a 70 e almeno in un caso un intervento aveva un grado di urgenza di classe 60. Nel dettaglio ci sarebbe stato un problema con le travi di sostegno appurato per la prima volta nel 2011 che aveva richiesto ulteriori verifiche proprio nell'agosto del 2018. La replica di Atlantia non si è fatta attendere. Dalla compagnia assicurano che il rapporto non ha evidenziato nessun problema di sicurezza del ponte ma che al contrario ha certificato il pieno rispetto degli obblighi di manutenzione previsti dalla Convenzione.